Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Una notizia sinistra e inquietante ha gettato nell'abisso del silenzio coloro che, nel corso degli anni, hanno amato la televisione italiana. Gerry Scotti, una vera icona dell'intrattenimento, celebre non solo per la sua maestria come presentatore ma anche per la sua autenticità e passione, sta attraversando un periodo buio. Il suo improvviso ricovero ha scosso profondamente molti, anche se i dettagli sono scarsi. Gerry ha avvertito sintomi gravi che hanno richiesto cure mediche immediate, ma la natura precisa della sua situazione rimane avvolta nel mistero. Coloro che gli sono vicini confermano che si tratta di una situazione seria e preoccupante. L'amore e il supporto da parte del mondo dello spettacolo e del pubblico sono evidenti. Dimostrando quanto Gerry sia amato e rispettato. Siamo tutti con il fiato sospeso, sperando in una rapida e completa ripresa. Tuttavia, alcune voci suggeriscono un peggioramento delle sue condizioni, mentre altre affermano esageratamente che Gerry potrebbe non aver resistito alla notte. Preferiamo adottare un approccio prudente e vi terremo aggiornati memmano che arriveranno nuove informazioni. Nel frattempo, vi invitiamo a condividere il vostro affetto e augurare una pronta guarigione per il nostro amato Gerry Scotti.